Buongiorno, come vedete oggi sono in borghese, questo sta a significare che non opero, non opererò anche nei prossimi giorni fino a che la situazione che tutti conosciamo non sarà finalmente finita. È abbastanza strano vedere il nostro studio vuoto, silenzioso, non potrò fare interventi, non potrò fare prime visite, non potrò fare controlli, anche se la possibilità via Skype di fare delle visite resterà come da prassi per la nostra struttura. Mi dispiace per i pazienti ai quali ho dovuto comunicare la cancellazione degli interventi ma so che come me e il mio staff sapranno aspettare e applicare quelle piccole raccomandazioni e le piccole rinunce che ci porteranno a sconfiggere questo nemico invisibile, pertanto insidioso e temibile. Non mi resta altro che da farvi gli auguri da parte mia e del mio staff dell'intero Aesthetic del Surgery 241 e finire questo piccolo augurio con il nostro motto, perché, motto si deve dire, perché siamo italiani, andrà tutto bene. Grazie.